L'iter è stato lungo ma gli uffici comunali hanno sempre ribadito che c'erano tutte le condizioni per ammettere a finanziamento per oltre 5 milioni di euro la riqualificazione del parco di Montelungo. Così è stato. Nelle ore che hanno preceduto il nuovo anno il Ministero dell'Interno ha reso nota la gradutoria dei progetti ammessi attraverso il programma di finanziamento Rigenerazione Urbana. C'è anche quello voluto dall'amministrazione comunale sostenuto soprattutto all'assessore Terenziano Di Stefano oltre 5 milioni di euro per una rigenerazione complessiva dell'area di Montelungo almeno per quanto riguarda quella che è nella disponibilità comunale. Lo stesso progetto due anni fa aveva ricevuto un no dalla regione. Di Stefano, il dirigente Emanuele Tuccio, il gruppo Luigi Buttiglieri e i progettisti hanno ripreso in mano le carte e individuato il bando ministeriale che in totale per tutta Italia ha stanziato oltre 3 miliardi di euro. In Sicilia sono stati destinati i fondi per 420 milioni di euro. L'ufficialità è arrivata proprio la mattina del 31 dicembre. Anche il sottosegretario grillino Giancarlo Cancelleri ha dato comunicazione in tal senso pur senza scendere nel particolare. Dall'analisi della gradatoria nel dettaglio risulta appunto che tra i progetti collocati in posizione utile c'è anche quello inoltrato da Palazzo di Città. Proprio dal municipio fanno sapere che si tratta di un risultato molto importante che dà la possibilità di proseguire in un percorso di rigenerazione già portato avanti con altri programmi di finanziamento come agenda urbana e qualità dell'abitare. Il sindaco Lucio Greco nel corso della conferenza stampa di fine anno ha lanciato l'appello sia alla regione che al governo nazionale. Ha spiegato infatti che serve maggiore attenzione per il territorio e il governo nazionale così come quello regionale devono aprire ai progetti che vengono presentati dall'amministrazione. Ora bisognerà attendere la notifica del provvedimento per avviare le fasi successive.